mazzatelo qua sopra no? tutti quanti io ho rischiato come ho fatto? ma che cazzo ho fatto? da qua? che cazzo è questo? il guerriero? che cazzo è? sembrerebbe il guerriero vieni da sta skin sembrava il cattivo dei Lander il mio moto ci mette però Spider-Man che cazzo è? sempre il guerriero comunque mazza tanti si usano il guerriero dai quasi arrivato c'era del tempo di scendere ma questa volta non sta uscendo vorrei cambiare dipende pure dalla safe vorrei cambiare però crossing siamo a crossing boh per me c'è sta cazzo io scenderei qua tipo dopo i7 ma tanto non c'è niente là old manor crossing dai c'è gente no northport northport non l'ho mai vista l'ho mai vista mai zemin ora la scenda codnis Grazie. Perché non ho utilizzato subito questa arma? Perché mi sono sbagliato a selezionarla. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ma un altro ce ne sono due. Sono due loot. Non so ma io non lo andrei a prendere con l'altro. E sta zitto. Non so ma io non lo andrei a prendere. Non so ma io non lo andrei a prendere. Non so ma io non lo andrei a prendere. Non so ma io non lo andrei a prendere. Non so ma io non lo andrei a prendere. Non so ma io non lo andrei a prendere. ahahahah Non lo so regà ma mi sento più sicuro Monster Hunter World cazzo è vero Oh Allora Dovrebbe andare a sentinel L'unica è sentinel Piana forgia Piana forgia Qui c'era già stata la forgia Deve andare fuori Qui c'è 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 Qui c'è